Musica Prato oggi di edilizia sociale, proprio in un convegno organizzato dalla Cisla in città, facciamo il punto della situazione nel nostro prossimo servizio. Emergenza a case popolari edilizia convenzionata nel Comasco, l'allarme emerge da uno studio realizzato dal Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, commissionato dalla Cisla di Como. L'analisi mirava a determinare se vi fosse un punto d'incontro tra domanda e offerta. La risposta è stata netta. Totale squilibrio tra fabbisogno di case popolari o a prezzi calmirati e domanda da parte delle famiglie in difficoltà, valedri anziani, giovani coppie, nuclei monoreddito, famiglie numerose e stranieri. La sproporzione si evidenzia maggiormente confrontando il numero di case popolari con il numero di residenze realizzate dall'iniziativa privata. La ricerca fa una proiezione al 2018 di questo fabbisogno, sinteticamente esporre in questo modo, 9.900 vani stanze per l'edilizia sociale, 5.000 circa per l'edilizia convenzionata e paradossalmente un surplus, una sovrapproduzione di altri 5.000 vani di edilizia libera. Se l'edilizia libera si convertisse in edilizia convenzionata abbiamo risolto già una buona parte del fabbisogno. C'è un eccesso di edilizia libera e non c'è presente sul territorio in maniera sufficiente l'abitazione che può rispondere ai redditi medio-bassi. Negli ultimi tre anni l'Aller di Como ha raccolto oltre 2.300 domande di assegnazione d'alloggio da diverse tipologie di cittadini. Nel 40% dei casi si è trattato di single, spesso separati o divorziati. Nel 30% di anziani, famiglia monoreddito e cittadini sottoposti a sfratto. Nel restante 30% si è trattato di stranieri.